Allora, air to ground missile, non so che cavolo è, ma visto che lo dobbiamo fare, facciamolo. Poi proviamo a fare il volo verticale, e vabbè, facciamo tutto. Oh che cavolo è questo? Ah perfetto, non c'è l'HVR, c'è l'altro? Welcome to the air to ground missile. Learning world, che cavolo è. Allora, air to ground missiles, or AGMs, are useful for precisely hitting late to medium armored ground targets. First, power the targeting pod. You will use the TGP to designate targets for the AGMs. Now on the weapon system. And switch to the AGM-114. Emo? Switch to IMG. Equip. These are small, those are guided anti-tank missiles. Beak. If they open on the laser point emitted by your TGP. You must maintain line of sight on the target until it hits. To fire it, if you need a target using the TGP, put your aircraft at the target until the missile locks on, then hold the trigger to fire. You can also switch the TGP to manual, which will allow you to fire and the target's off for sale. In manual mode, you hold the trigger to uncage the speaker and press the weapon switch button to fire. Okay. Okay. Hmm. Take what I am shooting the trigger to the target. Auto-paste off. Auto-paste off. Just go. Auto-paste off. Just go. Remember, you need to maintain line of sight with your TGP in order to guide the missile to the target. and go. Okay, so... It's not as true. We're gonna have much conversation... ...but she still know what I'm saying... ...body's can't explain it, but we're gonna have an auto-paste. Yeah, 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 yeah. Por lo pe, go. Not as well as the audio-paste off. The light-paste off. Ah, yeah, yeah, yeah. Being green-based, what do we do about that? Both of you? ah 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 ok ah 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 Autopilot off. Aspetta, aspetta, ho capito. Allora, facciamo una dotazione ancora, non so dove è l'obiettivo, e adesso non so. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Non so, non so, non so, non so. Autopilot off. 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 Tira su, tira su, tira su Ok Dai, ci possiamo Questa è la direzione Ci facciamo il blocco di altitudine Scusiamo al minimo E mo facciamo così Non riesco a mirare Autopilot off Oh, good Landing gear C'è ma di capire Landing gear Landing gear Landing gear Autopilot off Autopilot off Landing gear Optical images Landing gear Autopilot off Come faccio a sparare con l'optical Oh, non c'ho capito niente Allora Allora Intanto Tira un po' da su Vediamo se riesco a fare Landing gear Landing gear Landing gear Il problema adesso è Che io dovrei sparare con quel cazzo di cosi Tengo l'AMG Tengo l'AMG Questo è l'AMG Va bene Ci siamo capiti Mo Detto questo Io ho inquadrato I versagli Autopilot off No, autopilot on Altro che off Mo Come faccio a sparare Ho armato Armato Master armor Config Home Facciamo mano Armato Home Back Keep Back Lasciamo armato Io tengo 65114 Ufficialmente Autopilot off Autopilot off Autopilot off Autopilot off Autopilot off Autopilot off Eh, ma non spara Autopilot off Autopilot off Autopilot off Autopilot off Autopilot off C'è qualcosa che mi sfugge Allora, cerchiamo di capirlo Io ho il config Ok Facciamo un app Quindi tu mi stai portando lì Or, riduciamo la velocità Jimbo Limit Va bene Ci siamo capiti Mod Pip Soy ora adesso facciamo un hub ok, vediamo se riesco a gestire autopilot off autopilot off autopilot off ok quindi ho iniziato a capire una mezza cosa quindi se adesso faccio l'optical tu inquadri e fai così va bene, va bene mentre l'altro è semplice così inquadri e fai così, vabbè, proviamo quindi in questo caso vado in nav, tiro su vado in config vado in questo e faccio auto vado in quest'altro e faccio manual va bene ok, vediamo un po' adesso autopilot off autopilot off great now switch to the H&M 65 la H&M 65 la H&M 65 è un'attività più grande con un'attività più avanzato con un'attività più avanzato con questo tipo di missile non bisogna mantenere una roca dopo la faiare l'acqua e la faiare la faiare molte la faiare la faiare la faiare la faiare la sfondo Autopilot off Autopilot off Ah ecco perchè non mi faceva l'HVR, non ci credo Ok perchè ero in modalità, vabbè Se adesso faccio cosi, ufficialmente dovrei andare bene Ma dove ce la stiamo? Landing Gear Landing Gear Quella guerra è alta Landing Gear No entro Non entro Ok come mancina, it's so batti Perciò la metà il senso d'acchino. Ok. Autopilot off Autopilot off Landing gear 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 E' un macello No, gli alberi, gli alberi, tira su, tira su Allora, con calma No, devo rivedere la guida, non c'ho capito niente Non c'ho capito niente Allora 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 Allora